Signore e signore buonasera allora passiamo a una puntata praticamente per quanto riguarda siamo arrivati al decesimo episodio storia di Benito Viola abbiamo preso abbiamo cominciato nonno col suo verso come me le ricordo spontanei sono più belli e spontanei io racconto quando ero a zero a zero senza la gavetta non ero nessuno e racconto quando invece ero famoso prendiamo la vita di Benito Viola che l'ho passata o in un modo o dall'altro questa volta parleremo di un'orchestra uno spettacolo molto bello proveniente dalle Puglie io l'orchestra io prima le devo collaudare se sono buone le tengo ma quando devo fare cattiva figura non le chiamo allora questa era una bellissima orchestra che mi ha dato sempre grande soddisfazioni allora era nel mese di settembre c'era una settembre no 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 perdono perdono era nel mese di giugno adesso mi sono ricordato perché io non è che scrivo le cose io le racconto spontaneo e questo non è lungo questa storiella ma è molto importante diciamo un po' secche sì allora questa orchestra succede che è arrivata un giorno prima il cometato l'ha ospitata tutta l'orchestra a dormire e a mangiare perché loro avevano tanti appartamenti e mi ha ospitato anche a me quindi in quell'appartamento dormivo anche io il giorno dopo c'era la festa però il cometato disse a mezzogiorno vi voglio invitare a tutti quanti in campagna ci aveva una fattoria e il cometato Don Tommaso ha preparato un pranzo stupendo meraviglioso e poi in campagna è piacevole perché si mangia alla casereccia si ride si balla la mangiata campagnola è bella poi quando ci sono belle donne che sono in compagnia e di questa orchestra c'erano otto donne belli in compagnia allora a mezzogiorno siamo andati a mangiare l'incere il bene di tutto poi il vino perché lì in questa orchestra c'era qualcuno che approfittava del vino e ci ha detto io non bevete troppo perché questa sera dobbiamo fare lo spettacolo e io sul palcoscenico non voglio gente ubriachi e io l'ho avvertito perché io sto sempre attento a tutto allora tra queste donne ce n'era una bruna capelli lunghi e molto come devo dire stuzzicanti sì avevamo fatto amicizia avevamo parlato ogni momento mi rideva mentre mangiava mi guardava ma vado a mangiare lascia perdere mi rideva mi faceva e poi col piede sotto il tavolo mi toccava il piedi e io la guardavo guarda questa questa non me la sciampace poi dicono che che la carne è debole per forza quando la carne è debole si cede a questo punto ancora questa ragazza bella provocante però molto spiritosa quelle altre ragazze benito viola ma non mangi perché non mangi nemmeno te ci ha detto a quella che mi tocca avere i piedi sì adesso mangiamo col tempo vero benito mangiamo col tempo sì sì allora si è brendato col vino si cantava poi il vino ha menato un po' alla testa chi ballava chi cantava a questo punto io dopo abbiamo mangiato perfino la torta la macedonia il caffè il gelato un po' di tutto ci ha invitato il comitato erano oltre 16 persone e tutte abbiamo fatto un pranzo meraviglioso a quel punto io ho mangiato qualcosa che mi appesantiva il stomaco quando mangia pesante uno perché c'era il pesce stocco mi veniva il sonno sentite cosa succede mi veniva il sonno allora la figlia del comitato mi disse signore Benito Viola sotto quella pianta di ciliegi c'è un lettino andate a farvi un pisolino vi vedo vi vedo stanco insonno lito eh sì io dico il pesce stocco mi appesantite e mi veniva il sonno me ne sono andato ho fatto come ha detto questa ragazza e mi metto lì su questa brandella eh c'aveva il barretto me l'ho messo avanti agli occhi eh e mi ho messo a fare questo pisolino ma questo pisolino non è durato molto perché c'è stato qualche persona con lei che me l'ha disturbato e come ah 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 è divertente allora c'era una pianta di ciliegi bella carica di quelle ciliegi grosse graffioni eh belle rosse ma carica dico quando mi sveglio dopo mi farò una manciata di queste belle ciliegi beh mi ho messo mi ho fatto una mezz'oretta dopo mezz'oretta qualche persona ah 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 mi ha disturbato perché quella ragazza che mi toccava il piede mentre facevamo il pranzo cosa ha pensato di fare ha preso la scala l'ha appoggiata nella pianta di ciliegi io ero sotto e lei è andata sulla pianta a mangiarsi i ciliegi ah 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 allora io ancora dormi io però ero quasi pronto per svegliarmi e sentivo cose che mi cadevano nella faccia nel barretto e dico che cosa stanno cadendo ancora era lei la bella Francesca che mangiava e mi buttava le noccioli in faccia ah 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 quando vado vado a guardare verso sulla pianta perché ero vicino al tronco della pianta che dormivo vado a guardare chi ti vedo la mora la bella ragazza su ah dico tu sai che butti le nocci lì in faccia mangia delle ciliegie ma non buttarmeli in faccia a poi vado a guardare meglio e vedo un paio di cosci bianchi e salita sulla pianta per mangiare i ciliegie e la scusa e con la minigonna e non basta la minigonna senza mutanti senza mutantini me l'ha fatta apposta sta figlia di buttana sta figlia di buona mamma me l'ha fatta apposta che sono buoni faceva queste ciliegie guarda 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 che sono buoni io guardavo ma cosa guardavo guardavo un paio di cosce bianche e si vedeva il boschetto da una rama passava all'altra camminava sulla pianta mi ha fatto venire il fuoco addosso si aveva il fuoco ne vuoi ciliegie adesso rompo una rammetta e te la do rompe una rama di ciliegie carica e me la butta giù mangia vedi che io ti penso io da su della pianta ti penso a mangiare i ciliegie si hai ragioni io mi mangerei te dico altro che ciliegie eh come mai mi passeggi sulla sulla pianta dei ciliegie senza mutantini eh e sai fa caldo eh fa caldo ho voluto salire sulla pianta senza mutantini ti disturbo eh o sei allergico vedere una donna mezza nuda senti eh Francesca mangia i ciliegie scendi perché sai com'è io sto ardendo come il fuoco sto bruciando come il fuoco e fuoco a mezzo alla paglia si accendi veramente la carne è deboli e allora e allora se tu cedi facciamo l'amore ah vorresti fare l'amore vero eh lo so che tu la fai soltanto per stuzzicarmi per eccitarmi dai scendi dalla pianta che non ce la faccio più a guardarti dai guarda come sono belle queste ciliegie adesso rompo un'altra rametta e te le mangi ecco vedi come ti penso io eh tu mi pensi così come ti penso io eh il mio impresario Benito Viola senti ma io vedo sulle cosce toi un boschetto o mi sbaglio sì un boschetto che colori nero nero ma molto nero il boschetto ah 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 mi ha fatto impazzire me la faceva apposta poi era una ragazza che gli piaceva come dire stuzzicare poi è scesa ma io non ce l'ho le mutantine tu non c'hai niente di dosso ci alzo le gonne e ci aveva il boschetto hai visto eh ma tu sei allergico eh vuoi che vengo vestita coi pantaloni no e voglio che venne vestita nuda nuda completamente oh come se Rossi in faccia mamma mia come mai eh sì perché questo fuoco me l'hai dato te e allora che facciamo e che vuoi che facciamo adesso il nostro capo orchestra ci fa andare a fare le prove eh dobbiamo andare via non c'è tempo di fare quello che vorreste fare sì io lo so che tu lo fai soltanto per farmi stuzzicare ti diverti eh allora che cosa succede ce ne siamo andati e lei si era messa da un'altra stanza che non c'è la porta vedete che ci sono i porti metà e poi l'altra metà sopra si apre come una finestra eh lei questa figlia di buona mamma verso su era vestita di sotto io non potevo vedere c'era l'altra mezza porta era nuda 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 per stuzzicarmi per fare e lei si divertiva a parlare con me mentre lei dentro era nuda poi eh me l'ha detto un'altra ragazza quando lei parlava con te lei era nuda era coperta di sopra con una camicetta ed è sotto nuda ah 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 ora io dico una cosa non devono dare torto perché perché sono gli uomini perché qua per quella e poi io come devo dire ho sempre rispettato l'orchestra perché queste ragazze partono della sua ragione della sua città e quando fanno questo mestiere eh le mamme il genitore sanno che potranno succedere delle cose strane dove vanno quindi le lasciano andare libere di fare quelle che vogliono finché sono maggiorenne menorenne le tengono controllate quando sono maggiorenne fanno quello che vogliono e queste ragazze vengono a cantare con l'orchestra e hanno anche i suoi avventuri avventuri non con un uomo qualsiasi un uomo che gli piace e se lo fanno io praticamente questa se l'ha presa se l'ha presa con me Francesca una volta sui ciliegi poi va nella porta che si forma porta sopra sotto e di sotto era nuda allora che cosa deve fare un uomo è di ferro anche il ferro si può muovere e quindi sono cose le storie le storie capitale comunque abbiamo fatto questa bella orchestra una bella serata poi adesso parleremo di un'altra cosa perché mi ricordo un pochettino io praticamente quando fine l'estate quando fine l'estate tutti gli impresari è finito devo ritornare la prossima stagione per fare i spettacoli io c'era una persona mi ha detto tu potresti lavorare pure anche all'inverno poi io avevo certe amicizie alcune ragazze non dico la città non dire ma una quindicina di donne spoglierellisti facevano i spoglierelli integrali e allora mi hanno detto questi ragazzi tu lavori l'estate l'inverno cosa fai? non fa niente come passa l'inverno fermo no dico alla televisione ma potreste passare l'inverno con noi con le belle donne noi facciamo spoglierellisti e guarda che mi hanno convinto allora parlo con Mirella Mirella io adesso in inverno lavoro che lavoro fai? mi ha detto ho deciso di fare che ci sono le ragazze spoglierellisti che cosa? che cosa? ripetelo ancora lavoro con belle ragazze spoglierellisti e come si svolge questo lavoro? non sono piazzi sono dentro al teatro oppure che ne so un comitato vuole fare una festa riservata chiusa e quindi ballano danzano nudi a mezzo al comitato a mezzo al pubblico questo è no no tu non lo fai questo lavoro perde la degnità fino adesso sei un impresario mondiale un impresario famoso adesso tu facendo questo lavoro ti disgradi diventi diventi non una persona seria ma vuoi distruggerti e poi io non ti lascio andare a mezzo alle donne nudi io so quello che sei quello che ho passato adesso ancora Mirella lo devo fare questo lavoro così all'inverno guadagneremo qualche soldino va bene fallo la prima cosa che sento è che sbagli io devo andare nel comitato devo portare i ragazzi si dici ma basta che non vai oltre io non vado oltre Mirella ma te la prendo sempre con me lasciami lavorare così ho inganciato queste spoglierellisti la prima serata l'abbiamo fatta ne ho portate tre al teatro un cinema teatro e allora si esibiva una alla volta la prima si chiamava Gabriella allora ha cominciato lo spettacolo il cinema chiuso perché quando si tratta di sesso come si svolgeva questo spettacolo io lo sapevo come allora Graziella ha cominciato spogliarsi un pezzettino alla volta alla volta fino a che si è spogliata nuda poi il balletto che fa è erotico stuzzicanti chi è freddo non ce ne fa venire il fuoco questa è una bella ragazza si spogliava faceva le posi quando fanno sesso tutte queste cose ma il più bello venne dopo perché queste ragazze dopo scendono in mezzo al pubblico nella platea dove sono i telespettatori seduti dentro al cinema passano a mezzo loro si siedono sui gambe degli uomini si fanno toccare insomma è un spettacolo proprio bello allora siccome qualcuno era venuta col marito no? capitava che andavano in coppia col marito al cinema quando la ragazza andava a sedersi sul marito la moglie no 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 sono gelosa vai vai le cacciavano comunque poi finita Graziella entra Rosanna finita Rosanna entra un'altra insomma e così si faceva il spettacolo spoglierellista ho continuato un po' di serati poi ho pensato quello che mi ha detto Mirella che un impresario serio non può fare queste cose sì aveva il lavoro per inverno allora ho smesso ho smesso anche perché poi questi ragazzi io dovevo andare a Roma a prenderle portarle con la macchina accompagnarli era troppo fastidioso dovevo prepararci l'albergo per dormire mangiare e così c'era troppo troppo lavoro e così praticamente ho smesso questo lavoro ma qualche volta che che io cioè questi ragazzi durante il viaggio Mirella mi vedeva che le compagne si arrabbiava si arrabbiava perché era gelosa gelosa perché mi voleva bene e allora così che abbiamo smesso mi sono fermato le ragazze mi facevano valanghe telefonate Benito Viola tu hai l'esclusiva nostra ci puoi portare in Sicilia in tutta Italia solo con te lavoriamo sì sì io per non lasciarle delusi ci ho detto sì adesso in questa settimana non sto bene riprenderemo il lavoro più avanti state tranquilli e allora abbiamo cose poi un'altra cosa che volevo dire durante l'estate non faccio nome c'era qualcuno del comitato che diceva dice sente dice ma non c'è un'orchestra che dopo lo spettacolo si fermano per fare sesso allora io in 40 anni canosco chi lo fa chi non lo fa sì ci sono e allora noi vogliamo un'orchestra che dopo facciamo lo spettacolo in piazza si fermano le ospitiamo mangiamo e poi ci divertiamo divertiamo sentire come col sesso allora state bene a sentire io potrei pure fare portarvi un'orchestra di questo tipo però il spettacolo non lo fanno bello sono artisti orchestre di donne che non sanno cantare bene non ci importa lo spettacolo lo tengono lo tengono tre ore sì lo spettacolo lo fanno però rimarrete un po' deluse dello spettacolo o prendete il spettacolo buono o prendete il sesso cosa volete vogliamo provare una serata di divertirci va bene allora io l'orchestre di questo tipo ne conoscevo tre quattro ingancia una però io glielo dico prima se voi cantate male se il spettacolo non piace non vi dovete preoccupare soltanto che a fine dello spettacolo loro si vogliono divertire con voi si fa una festa in famiglia una festa privata quindi voi lo fate sì lo faremo dice ma non sesso completo ci spogliamo ci abbracciamo io al comitato ci ho detto ma il sesso completo non lo fanno però si spogliano si fanno e poi ogni persona di voi del comitato ci dovete dare un regalo di 50 euro ciascuno 100 oppure 50 si accontentano quindi se voi siete 10 del comitato 15 del comitato vi divertite all'ultimo prendete della tasca un regalo e ci date 50 euro sì lo facciamo allora che l'orchestra arriva non dico il paese non dico dove non dico chi sono no da dove vengono non lo posso dire l'orchestra arriva anzi ci ho fatto un bel spettacolo era era luna di notte i ragazzi si hanno cominciato a vestirsi si sono preparati e sapevano quello che devono fare il comitato organizzato da un altro appartamento tutto da mangiare da bere da tutto i letti tutto hanno messo allora queste dell'orchestra che hanno i musicisti le cose disse noi non veniamo perché se lo sanno i genitori sanno che noi eravamo d'accordo una di queste ragazze disse ci rispondi che ha sentito signore direttore dell'orchestra noi siamo con voi per fare il spettacolo per farlo bello per fare tutto ma quando finiti il spettacolo noi possiamo fare quello che vogliamo non siamo menorenni siamo maggiorenni quindi noi vogliamo divertirci non ci abbiamo dare conto a nessuno e vi devo aspettare per portarvi a casa a portarvi al vostro paese sì noi ci divertiamo perché la paga che lei ci dà è poca e ci guadagniamo qualcosettina col comitato allora finito il spettacolo il capo orchestra se n'è andata per i cavolesoi sul folgoni lo spettacolo e mangiare doveva durare due ore rimasto perché poi dovevano rientrare i musicisti se non sono andati allora io me ne sono andato anche io con i musicisti che vado a fare io lì no le ragazze hanno voluto che io ero presente e che faccio io che fai ti diverti anche tu vieni a mangiare mi hanno portato lì mi hanno preparato una tavola stupenda si ha mangiato e poi si sono ubriacati e quando uno è ubriaco non sa più quello che fa non sa quello che fa così dopo mangiato il comitato ha cominciato a stuzzicarle toccarle toccarle c'è qualcuno che si è preso la ragazza e se l'ha portata a parte che non vede nessuno e magari hanno fatto sesso completo si sono divertiti hanno mangiato e poi quando sono partiti il capo orchestra l'ha visto umbriachi dice capo orchestra vuoi fare sesso anche tu camminate vi porto al paese io da questo momento non sono responsabile da voi sono responsabile quando voi fate il spettacolo allora poi ci ho detto al comitato com'è andata ah bella ci siamo divertiti non volevano pregate a spogliarsi si sono spogliati si sono buttati al letto abbiamo ah 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 queste cose io praticamente questo l'ho fatta perché mi le ha chiesti il comitato che voglia un'orchestra per divertirsi poi ci sono l'altro orchestra serie che non fanno queste cose cantano danno spettacolo si faranno pezzi per la riuscita della festa però nessuno si permette di dire niente ed è stata questa vi racconto che poi finiamo per questa sera con vi racconto un'altra cosa io durante il spettacolo ve l'ho raccontato che una ragazza bella bellissima grandiosa accattivante una donna stupenda che poteva fare miss bellezza per quanto era bella quella me l'avevo conquistato io allora una stata intera sempre con me sott'occhio io ero geloso se lei parlava con gli altri e lei mi voleva bene disse benito viola tu sei geloso ma io non ti tradisco no io ti voglio bene io ti faccio qualsiasi giuramento guarda se mi tradisce ci lasciamo ognuno per i fatti sui e tu pensi che io ti tradisco io non sto dicendo niente allora abbiamo fatto un paese una festa dove c'era questa ragazza che io mi ero innamorato Silvia si chiamava c'era Silvia hanno fatto lo spettacolo il spettacolo grandioso un concerto riuscito un concerto che resta nella storia di quello che hanno fatto i ragazzi perché sono ragazzi che non si stancano mai non vogliono mai scendere dal parco perché vogliono cantare fino alle due alle tre di notte e quindi hanno smesso alle due di notte quando hanno smesso Giovanotti il comitato era giovane non era persone disse adesso c'è una bella cena andiamo a mangiare hanno preparato da mangiare io ci ho detto a alla mia ragazza ci ho detto lascia andare a mangiare loro noi andiamo per i fatti nostri ti porto io a mangiare no voglio stare con i miei compagni con le mie amiche senti tu vuoi che andiamo? andiamo allora ci hanno mangiato queste giovanotte poi le provocavano le ragazze perché volevano portarla a letto dopo finito di mangiare l'hanno ubriacato tra cui si è ubriacato anche la mia ragazza si è ubriacata e poi non vedeva più quello che faceva persone che andavano a mettere le mani addosso e io fino a un certo punto è stato zitto quando ho visto che ancora contenevano le spogliavano erano ubriache e il comitato le spogliavano e loro arredevano si abbracciavano questo tipo di di pranzo a me non mi piace ho detto io allora ci ho detto Silvia andiamo via no io voglio stare con i miei compagni Silvia andiamo via lascia che si divertono loro ma no no non mi fare questo e mi voglio divertire qua era ubriaca anche lei ubriaca non capiva più niente allora ubriaca si buttava sul comitato e il comitato cercava di pumiciare l'ho presa a schiaffi cammina cammina con me praticamente tu si ubriaca e quando poi tornerai seria e poi ti pente di quello che hai fatto andiamo quello il comitato disse e me la porti via ma vaffanculo ci ho detto io ti prendo a schiaffi anche a te adesso eh qui io l'ho portata per cenare ma non per fare tutte queste porcherie cammina no io voglio stare qua ancora un altro schiaffo cammina l'ho presa dei capelli l'ho tirata fuori cammina cammina perché stanno fando schifo là dentro la cena da mangiare l'hanno ubriacata e adesso non ragionano più gli danno tutto il sesso quello che ci chiedono il comitato loro le ragazze ci danno tutto e tu vorresti fare la stessa cammina cammina l'ho presa a schiaffi e l'ho portata nella macchina piangeva questa dice il bene che mi vuoi mi hai picchiato e che volevi stare lì per farti pomiciare per andare a letto eh allora mi sono arrabbiato mi sono arrabbiato poi sono andato di nuovo lì a lei l'ho lasciata nella macchina e le vedo là sdraiate col seno dei fori e quelle che pomiciavano cose allora ci ho detto la festa è finita basta ragazzi dobbiamo andare via e voi dal comitato adesso basta avete superato i limiti va bene a me non mi importa che il prossimo anno non mi chiamate più per la festa queste feste così io non le faccio non le voglio fare perché sono una persona seria tutte quelle ragazzi spogliati chi con lo seno nudo così andate a vestirvi che fate schifo poi la sbornia ha cominciato a passare si sono vestiti e sgraffiati ci hanno tolto il rigiseno ci hanno tolto tutto il massacro c'era io pensavo che offrono la cena una checchierata ma si è arrivato il bacio magari il bacio passiamoci le sopra per il bacio ma poi le spogliavano e loro ridivano come è bello come è bello senza il rigiseno come è bello col seno di fuori perché erano umbriachi vedete in questo in questo mistero che ho fatto 40 anni ne ho passate di tutti i colori però c'è una donna che io non ci tengo e ci vogliamo bene e poi me la vedo che me la spogliano avanti agli occhi che me la tocco non me la fanno allora che sono io ho un burettino poi quando la mia donna è venuta sapete cosa mi ha detto perdonami perdonami se mi hai picchiato hai fatto bene mi doveva ammazzare era umbriaca non capivo più cosa facevo facevi che andavi anche a letto si come era combinato andavo anche a letto e dice a me mi ha salvato ma quell'altro e dice sono andato a letto ora praticamente ecco cosa succede io racconto alcune cose che non una volta è successa una storia con i maggioretti non faccio nome questo maggioretti da che parte sono venuti alcune di queste maggioretti non hanno voluto entrare al suo paese sono rimasti dove abbiamo fatto la festa e io il giorno dopo le vedo lì che mangiavano con altre persone e voi ah dice non abbiamo rientrato dice perché questo paese è bello volevo conoscerlo bene non era perché conoscerli bene perché si sono fermati con persone chissà io non ho visto cosa hanno fatto però se questi ragazzi non rientrano a casa e se stanno con altre persone perché cosa lo fanno allora lasciamo perdere andiamo a avanti con queste cose io ho fatto sempre la persona seria se qualche donna mi ha provocato proprio come quella dei pianti della ciliegie non è colpa mia e poi ho incontrato la mia compagna di lavoro Mirella che ha saputo che ha saputo tenermi a posto perché mi disse da questo momento mi metto i pantaloni perché comando io io non ce l'ho le palle mi ha detto tu non ce l'hai le palle faceva seria questa questa magari era probabile pure di farmi qualcosa cattiva perché Mirella è una persona molto seria dice io sto con un uomo ma non vado con quello con quell'altro come fai tu ma io con che vado che cosa ho fatto ho fatto le comparse ma non sono andato a fare là a fare là mi sono capitato mi sono divertito soltanto giocare giocare ma mai ho fatto così cattivi mai ho offeso a qualcuno giocare giocare è il diritto di tutti di giocare e poi non è che gioco con una persona di forza vuoi giocare con me per forza mi provocano loro a giocare e giochiamo ma poi dicono i proebito il dialetto qua della Calabria scherzando scherzando in dialetto calabrese le donne escono incinti scherzando va bene a questo punto Benito Viola mi fermo qui perché anche perché qui ci voleva la luce il schermo lo vedo un po' buio però voglio salutare con la luce ecco un attimino che voglio accendere un faro un faro un faro accendo arrivo arrivo subito dove 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 ho acceso ecco ho acceso un faro perché era buio e perché Benito Viola vuole salutarvi con la grinta con la grinta con un bel sorriso e poi questa è la come abbiamo detto questa è la decesima puntata che abbiamo fatto la storia di Benito Viola continua non si ferma qui ci vediamo ci vediamo ora all'undicesima puntata andiamo avanti queste bellissime ricorde vanno sempre su su youtube perché c'è tanta gente che mi scrivono si scrivono sul mio canale io le ringrazio a tutta questa gente che sono iscritti nel mio canale perché io racconto la mia storia non è sporca io non racconto cose avventurini abbiamo giocato scherzato io ho rispettato sempre tutti agli artisti a tutti e adesso Benito Viola vi saluto con affetto con amore e e è bello finire con un sorriso e allora poi vi farò perché io vi ho detto che ho fatto l'attore non mi piace recitare comicità non ci tenga la comunità ma drammatico nel dramma voi dovete vedere i film che ho fatto dramma d'amore ho fatto nozze di sangue ho fatto la vipera di mia moglie calabria rovente tempo di l'opara adesso mi ricordo tutti i titoli perché sono state diversi ho fatto non me le ricordo però ho fatto quelle 12 sceneggiate 12 film ho fatto e quelle più famose è stato dramma d'amore nozze di sangue calabria rovente tempo di l'oparo un film di mafia e tante cose e ho fatto anche da regista l'ho scritta io e poi ho fatto anche primi attori e con me alla spalla sempre hanno lavorato le più belle donne allora non volevo mai concedermi da voi ma adesso il tempo è scaduto allora ciao 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 alla prossima alla prossima